Ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro la moglie e la suocera, uccidendole entrambe, in manette un 38enne di origini magrebine, Jawad Isham. Attorno all'una la brutale aggressione che si è consumata di fronte ai due figli della coppia, un ragazzo di 16 anni e una bambina di due. Nessuno pensava che arrivassera tanto, dispiace, e la preoccupazione è per questi fiori, quello è l'importante, che qualcuno si prenda cura. La suocera, Brunetta Ridolfi, di 76 anni, residente a case nuove di Ceciliano, è morta subito a causa delle ferite inferte, mentre la moglie, Sara Ruschi, 35enne, è deceduta in ospedale dove è arrivata in condizioni disperate. Io sono rimasta di stucco veramente stamattina, quando ho saputo insomma quello che era successo. Io direi persone tranquille, ecco. Nessuno nella zona avrebbe mai potuto immaginare un epilogo così drammatico? Assolutamente no. A chiedere aiuto nel cuore della notte è stato il figlio di 16 anni. L'uomo dopo le coltellate è fuggito, è stato rintracciato dagli agenti della polizia, intervenuti sul posto mentre stava cercando riparo in questo piazzale, a pochi passi dall'appartamento teatro del delitto. L'uomo, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato, avrebbe detto le ho ammazzate tutte e due. All'origine del duplice omicidio, forse una lita degenerata in tragedia oppure un raptus di follia. Sono rimasto male perché ancora nel 2023 succede queste cose, è impressionante. Cioè le cose ne parli, se ne discute. Ammazzare una persona è una vita di una persona. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile della Questura di Arezzo e coordinate dal PM Marco Dioni.